Come convertire una foto, insomma un file jpeg, in un file pdf? È più semplice di quello che pensi, se te devi inserire una sola foto e convertirla semplicemente in pdf è proprio a portata di click. Se invece devi fare tipo un collage di foto per poi comunque trasformarlo in pdf, vediamo come farlo con due programmi. E' uno che in teoria se usi google hai già e un altro che bisognerà solo registrarsi. Iniziamo comunque con una semplice foto, tendenzialmente bisogna andare a cercare la foto e aprirla. Adesso prima che io la apro con il doppio clic, ti faccio vedere che comunque con il tasto destro abbiamo apri con. Diciamo che a me adesso mi si aprirà con microsoft foto. A me va benissimo anche paint o altri, dipende che fondamentalmente con lo strumento di base di microsoft funziona. Te comunque prova, potrebbe essere leggermente diverso ma quasi tutti i programmi che leggono le foto hanno questa opzione qua. Quindi apriamo la nostra foto fondamentalmente e poi molto semplicemente bisogna andare su stampa. Quindi non aprire il programma di stampa se ce l'hai dall'immagine, trova l'opzione di stampa. Io clicco su stampa e ti faccio notare che subito prima di farmi scegliere stampanti, vedi che c'è microsoft print to pdf. Insomma fondamentalmente mi crea un file pdf. Io adesso qua volendo potrei andare a scegliere la mia stampante ma io voglio il pdf. Adesso dipende dal tuo programma, se hai il punto microsoft foto sarà questo qua e quindi devi iniziare magari a cambiare le impostazioni. Tipo qua adesso mi è rimasto in questo modo qua perché ho il foglio in orizzontale. Quindi qua basta che gli vado a dire crea un foglio in verticale. Qua formato carta o comunque il file sarà di questo formato qua della 4. Se te vuoi cambiarlo cambialo. Poi qua se vuoi i margini o in fondo appunto se riduci adatta che la foto era più piccola appunto riempi la pagina. Se vuoi che la pagina rimanga tutto a tutto schermo della 4. Fondamentalmente adesso io basta che dico stampa e mi creerà un file pdf. Prima di stampare gli vado a dire comunque dove andarlo a mettere e gli posso mettere il nome. Prova pdf. Ok gli dico salva. Adesso io nei miei documenti dove l'ho salvato ho qua il mio prova pdf appunto ci faccio doppio clic e mi si è aperto nel mio programma di lettore pdf. E adesso con questo pdf fai quello che devi fare. Alternativa. Adesso se appunto volevi fare un collage di questo tipo qua adesso ti faccio vedere appunto due strumenti. Il primo un po' più complicato questo qua ma fondamentalmente probabilmente hai già e l'altro molto più semplice che permette di fare un sacco di cose che però bisogna registrarvi. Questo qua non è nient'altro che una pagina di google. Fondamentalmente se te hai i google, utilizzi google, nella tua pagina principale devi comunque essere logato nel tuo account di google. Qua quel menu con quei 6, 9 puntini che ci sono lì in alto a destra. Ci clicco sopra e vado a cercare documenti. Quindi clicco su documenti. Questo è un programma che serve più che altro per scrivere. Possiamo inserire immagine ma adesso vediamo che sarà, non sarà semplicissimo ma se ti guido io vedrai che ce la fai. Comunque fai, crea nuovo documento qua in alto a sinistra. Adesso che hanno cambiato ultimamente non lo so, comunque non mi piace a me la cosa che stanno facendo. Fondamentalmente adesso non mi fa vedere il formato della pagina. Comunque che è una 4, questo qua è una 4. Io comunque vado su formato qua in alto nel menu, clicco formato e qua dove c'è scritto per il momento novità passa al formato pagine. Quindi clicco su formato pagine così adesso ho visualizzato il mio foglio A4. Adesso qua ci sono molteplici modi per inserire le foto come qua in alto a sinistra posso fare inserisci. E tra l'altro immagine e poi qua ci abbiamo carica dal computer, posso cercare un'immagine direttamente su Google, posso andarla a prendere dal mio drive o da Google Photo. Che se hai collegato col telefono praticamente andresti a prendere le foto che hai sul telefono. Che appunto è la cosa più comoda se volessimo appunto utilizzare le foto che abbiamo sul telefono. Va quello che ho detto prima del file stampa funziona anche col telefono e anche questo si può utilizzare col telefono ma qua diventerebbe un po' più complicato col telefono. Adesso io comunque a prescindere da dove vado a prendere la foto ti faccio vedere come funzionerà. Quindi io posso aprire anche la mia cartellina e trascinare direttamente le foto dentro. Prendo la foto, ci clicco col tasto sinistro, tengo premuto, sposto e praticamente ho caricato l'immagine. Adesso, adesso sei già selezionata, io adesso vedi non riesco a spostarla, potrei sì forse ingrandirla un po' ma non me la fa andare dove voglio io. Comunque questo qua funziona anche volendo se vuoi fare una foto singola, però è più comodo lo stampa. Adesso, in questo caso qua, per riuscire a metterla proprio bene in cima ai bordi, dobbiamo andare a giocare con questi due tasti che abbiamo qua sotto. Poi vedremo dopo perché. Comunque uno dei due per il momento è indifferente, qua davanti a testo e qua dietro testo. Clicchiamo comunque su uno dei due, poi da questo menu, da questa scritta che è apparsa di fianco, sposta con il testo, faccio scendere la tendina e clicco su opzioni posizione. Clicco opzioni posizione, qua a destra mi si è aperto il menu e da sposta con il testo devo passare a fissa posizione sulla pagina. Ci clicco sopra, adesso fondamentalmente me la fa spostare, posso metterla in cima, posso ingrandirla fino a quanto voglio. Adesso se io carico un'altra immagine, prendiamo questa immagine qua, sempre col tasto sinistro, la posiziono qua dentro. Adesso per il momento lui è grande e non me la fa neanche spostare. Dobbiamo ripetere l'operazione per ogni foto, quindi vado qua sotto, metto davanti testo o dietro testo è uguale, poi sempre in sposta con il testo faccio scendere il menu, opzioni di posizione, che comunque vedi che avevo già qua di fianco, adesso me la solo ho aperto. Comunque devo fare fissa posizione sulla pagina e adesso posso appunto metterla qua a sinistra e rimpicciolirla. La rimpicciolisco ancora un po' così ti faccio notare una cosa, no vabbè facciamo così anche se adesso non farò un lavoro perfetto. Potrebbe essere il caso che te questa foto qua la volevi dietro invece che avanti. Ma già che ci sono carico l'altra immagine che si adatta meglio, carico, metto un'altra immagine, ok, di nuovo qua in fondo, poi posizione, vedi che già a sinistra c'avevamo già il menu aperto, quindi vado su posizione, fissa posizione su immagine, la rimpicciolisco un po' e in questo caso qua che la foto comunque si presta bene a questa opzione qua, vorrei magari che andasse dietro a questa qua. Quindi iniziamo con cliccare sulla foto che voglio mandare dietro, provare a cliccare qua su questo qua, questo tastino qua dove c'è dietro testo, ci clicco sopra e mi è andata dietro. Potrebbe essere che non ti va dietro, allora devi andare a giocare con le altre foto tipo su questa, cambiare se era da dietro e metterlo in avanti e viceversa, devi provare e riesci a mandarle un po' dove vuoi. Poi, volendo, potevamo mettere anche dei bordini, se io su questa foto qua volessi mettere un bordino per cambiare l'immagine, una volta selezionata l'immagine, qua nel menu che trovo qua in alto, vedi qua dove c'è colore e testo, se io clicco qua sopra e metto, per dire il nero, mi è apparso un bordino, che io, volendo sempre con il menu che c'è di fianco, dove c'è tutte quelle lineette, posso anche ingrandire. Adesso, se questo qua non è il programma giusto per fare cose complicate, comunque adesso ti faccio solo vedere cosa devi fare poi, dopo. Fondamentalmente, comunque, prima di salvare, in questo caso qua, su questo programma qua, devi andare a mettere il nome della tua foto e qua si fa qua sopra, dove c'è appunto, abbiamo già documenti, e qua che c'è scritto documento senza titolo, fondamentalmente devo andare a mettere qua documento senza titolo e io dico prova PDF multiplo, qui, e lui l'ha già salvato, perché comunque questo qua ci rimarrà sul nostro drive, fondamentalmente, ce l'abbiamo sempre a disposizione e volendo possiamo anche poi andarlo a prendere dal telefono e viceversa. Qua adesso io faccio file e poi appunto basta che faccio scarica, dove c'è scarica, come vedi mi si aprono tutti i formati che posso scaricare questo file e adesso qua trovi appunto documento PDF, quindi io dico documento PDF e lui me l'ha già salvato, adesso non te l'hai visto, dipende dal programma, qua in altro, vedi, prova PDF multiplo, che è nei documenti o nei download. Io adesso clicco sopra, tac, e adesso questa qua, foto qua, è un PDF. Se comunque devi fare questi lavori qua, per spostare le foto davanti e dietro, mettere lignette o inserire anche qualcos'altro, ti consiglio di utilizzare un altro programma. Questo lo puoi utilizzare su qualunque browser e sto parlando di Canva. Se non l'hai mai sentito, vallo a scovare perché con Canva riesci a fare veramente un sacco di cose, io l'utilizzo tantissimo. Adesso non ti sto a fare un video tutorial completo di Canva, se non lo conosci e ti interessa conoscerlo, scrivi nei commenti se vuoi che faccia un video su Canva. Se già lo conosci, anche con Canva appunto è semplicissimo, una volta che sei registrato, è gratuito, ti troverai una pagina del genere e tra le varie opzioni possiamo anche semplicemente andare su Crea un progetto, mettere noi, se qua possiamo mettere le dimensioni che vogliamo noi o cercare. Se io appunto volessi fare un A4, basta che scrivo A4, mi appaiono i documenti A4 verticale o orizzontale. Quindi scegli anche questo caso qua come vuoi fare, io adesso riscergo il verticale, apro, tac e ho di nuovo qua, ho già il mio foglio. Come ripeto qua puoi fare tutte le dimensioni che vuoi. Anche qua puoi fare file, carica, quello che vuoi o semplicemente anche da qua si può trascinare le nostre foto. Quindi riprendo prima, prendo la mia foto, tac, la trascino nel progetto e come prima, anzi come prima, qua molto semplicemente posso fare quello che voglio direttamente con la foto. Posso andare su, metterla lì, trascinarla negli angoli per ingrandirla come voglio. Vado a prendere l'altra foto, metto questa qua, la inserisco, la metto qua, la rimpicciolisco un po' semplicemente senza dover schiacciare altre cose. Qua molto semplicemente ho su una o sull'altra, in questo caso qua se clicco su questa, col tasto destro, qua dove c'è scritto livello, livello sposta indietro e l'ho spostata indietro. Qua posso fare veramente tutto quello che voglio, come anche appunto inserire le righe dove voglio, delle scritte, posso inserire di tutto e di più. Facciamo ancora che carico un attimo velocemente l'altra foto, così ti faccio vedere come prima, tac, trascino, la metto qua, qua subito posso modificarla come voglio, la posso lasciare qua sopra. E poi appunto se voglio posso andare a fare le righe che in questo caso qua potrebbe sembrare più complicato di prima perché devo farne una, due, tre, ma fidati che qua puoi fare veramente quello che vuoi. Comunque adesso senza andare a vedere troppo come funziona il programma perché puoi fare veramente qualsiasi cosa e puoi anche modificare le foto, puoi schiarirle, insomma puoi metterci già degli effetti volendo. Alla fine comunque anche qua basta andare poi su condividi, qua in alto a destra, poi su scarica e anche qua, adesso lui vabbè dipende, a me mi ha messo PNG ma potrebbe essere che di solito c'è già PDF. Comunque qua nel tipo del file faccio scendere la tendina e anche qua posso scegliere quale PDF mettere. E appunto qua ne ho addirittura due, PDF standard, ideale per i documenti e le mail e qua addirittura stampa PDF, cioè ideale per le stampe perché come sai appunto il PDF stai cercando di modificare il JPEG in PDF perché magari appunto vuoi fare delle cose con le stampe. Quindi comunque scegli quello che ti interessa, fai stampa PDF, ancora una volta gli Rai scarica e adesso lui va a scaricarlo e va di default e va nel download, nella cartella dei download. Qua vabbè mi cerca delle opzioni se voglio farle stampare online. Ti dico è un programma che fa veramente qualsiasi cosa. Comunque se hai dei dubbi scrivimelo nei commenti, se il video ti è piaciuto lasciami un like e magari iscriviti al canale così e attiva la campanellina così sarai avvisato quando creerò nuovi contenuti. Tieniti libero di chiedermi quello che vuoi. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!